Ciao a tutti, prima di andare a letto volevo segnalarvi quello che mi hanno segnalato, quindi parlare di questa cosa insieme a voi, perché già da diversi giorni diverse persone mi hanno segnalato questa anomalia, un'anomalia all'interno delle case di cura, di alcune strutture ospedaliere, un'anomalia che fa capire che è cambiato il governo, cambiano gli attori, ma non cambia la recitazione. Parliamo di una casa di cura ad Asti, si chiama Casa di Cura Sant'Anna. Io faccio questa diretta non per accusare o per criticare, ma per capire se si avvera questa cosa o meno, perché mi hanno girato una foto, una foto fatta da alcuni amici all'interno di questa casa di cura, che hanno trovato un cartello alquanto anomalo, che fa capire che forse veramente non è cambiato nulla, se non una falsa, una finta fine di un obbligo nei confronti dei sanitari, che però rimane valido per i visitatori, in questo caso di una clinica, ve lo ripeto, si chiama Casa di Cura Sant'Anna di Asti. Se altri di voi hanno trovato queste anomalie, io ho anche altre persone che mi stanno segnalando queste cose, ho un figlio che me lo sta segnalando per la mamma che è in una casa di cura, nella zona di Milano, ce ne sono tante, però se voi avete questa cosa, cortesemente, segnalatemi. Siete pronti? Siete pronte ragazze? Vi giro lo schermo e lo leggiamo insieme. Guardate, questo è un cartello, una foto del cartello affisso all'interno di questa casa di cura, qua c'è il timbro, Casa di Cura Sant'Anna Asti. Visita ai parenti. L'accesso in struttura per le visite ai parenti è concessa una sola volta al giorno. E fino qua, anche se poco, tutto normale. Una persona maxi 60 minuti. Massimo due persone nello stesso orario, 30 minuti a testa per persona, muniti di... Attenzione, leggete. Attenzione, l'obbligo è decaduto per i sanitari, però resta in questo caso, e questa è una dimostrazione palese, che resta per i visitatori. Green Pass rafforzato, terza dose. Green Pass da primo ciclo completo, più attestato di certificazione di un tampone rapido entro le 48 ore. Green Pass da guarigione Covid, più attestato certificazione di un tampone rapido entro le 48 ore. Poi c'è l'orario di visita da 13 e dalle... va bene. Ma se... Io mi chiedo, la domanda è lecita. Intanto, se sia vero questo cartello, lo chiedo alla casa di cura Sant'Anna di Asti, che dovrebbe rispondere, vedendo il video. Quindi vi chiederei, cortesemente, di condividere a più persone della zona di Asti. Se per tutto il Piemonte vale questa cosa, o anche per la Lombardia, per l'Emilia Romagna, per il Veneto, per la Toscana, per tutte le regioni d'Italia, in sostanza, anche al sud, quindi Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna. Se rimane valida questa cosa, è una grossa anomalia. In quanto vuol dire che non è cambiato nulla. Vuol dire che hanno fatto una finzione, una vera finzione, andando a reintegrare i sanitari, i sospesi, per poi far rimanere valido il Green Pass. Far rimanere valido tutti questi obblighi. Perché se non hai, se non hai queste condizioni, Green Pass rafforzato, Green Pass da primo ciclo completo, più attestato di certificazione tampone rapido, Green Pass da guarigione Covid, tutte queste cose, tu non puoi vedere i tuoi cari. Tu non puoi vedere la mamma, il papà, non puoi vedere i figli, non puoi vedere i nonni, non puoi vedere gli zii. Quindi vuol dire che non è cambiato nulla. Anzi, oltre a non essere cambiato nulla, c'è l'ipocrisia in più di questa reintegrazione dei sospesi, falsa reintegrazione dei sospesi. Vi chiederai le segnalazioni, quindi avete la possibilità di segnalare la cosa nei commenti e indicarmi se nelle zone, nelle vostre zone, c'è questa anomalia. Se volete inviare le foto, avete redazione, chiocciola, robbi, wb, y, robbi, giusti, punto iti, potete segnalare eventuali anomalie di questo genere. Vorrei capire, vorrei capire questa cosa, perché è veramente strano, perché se l'obbligo è finito, la mia domanda è questa, ve la ripongo a tutti, se l'obbligo è finito, anche per i sanitari, perché resta valido per i visitatori, ogni dubbio è lecito e la domanda è più che lecita. A questo punto vi saluto, vi do la buonanotte, la notte porta a consiglio, ragionate, ragionate, condividete, commentate. Per quelli che vedranno il video domattina, ragionate ancora di più a mente lucida, a mente riposata. Queste sono le cose che fanno capire che sono tutti d'accordo. Vi do la buonanotte, non mollo mai come lo mollate mai voi. Continua questa dura battaglia per far emergere la verità. Buonanotte da Robbi Giusti.